Il design italiano è l'industria, l'artigiano, la piccola azienda, il movimento generale che fa quella roba lì. Poi ci sono alcuni design di italiani, ma non necessariamente. Quindi il design italiano è tenuto in piedi da loro, non da noi. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia a regola d'arte. Nuova puntata di Al dente, bentornati, ben arrivati. Se è la prima volta che ci ascoltate o ci guardate, vi comunichiamo che è l'ultima puntata della prima stagione di Al dente e poi torneremo con una stagione 2 ancora più ricca di cose, con novità, tanti colpi di scena. Oggi, bello concludere parlando di design, parlando di architettura, parlando di grafica, di comunicazione. Ho qui di fianco a me due ospiti e due sguardi diversi. Un'istituzione, un punto di riferimento, ben arrivato. Piero Lissoni. Grazie. Ai nostri microfoni è a tavola con noi e ben arrivato anche a Giuliano Guarini di Caffè Design. Ciao ragazzi, grazie mille. Com'è? Tutto a posto? Molto bello, molto bello. Sono super contento soprattutto di essere qui con il signor Lissoni, che è una leggenda. Cioè, per me che ho studiato design, insomma, è bellissimo averlo accanto a me. Fa strano. Fa strano, sì, insomma. E allora partirei subito da, insomma, la vostra formazione. Oggi, come dicevo poco fa, abbiamo proprio due sguardi, due modi di pensare sicuramente anche diversi, due esperienze da raccontare diverse. e partirei un po' dalla vostra formazione, brevemente, se vi va. Partiamo? No, no, parto io? Cioè, qui dovete gestirvela voi. No, non mi partirei mai. Partiamo da per su. Partiamo dalla mia. C'è della curiosità anche, noto. Appunto, io sono designer, sono in questo mondo tendenzialmente da una decina d'anni, facciamo così. Attualmente mi occupo di branding, sono un freelance, lavoro appunto più nella parte visual tendenzialmente del design. E creo brand, tendenzialmente, in maniera molto spicciola. Ho lo studiato a Politecnico, l'ho fatto a triennale e la magistrale. E poi, una volta poi avviata la mia attività da freelance, al cinque anni fa, sei anni fa circa, insieme a Nanni e Breccia, abbiamo fondato Caffè Design, che è un po' il nostro baretto nell'internet, come lo chiamiamo noi. È diventato poi nel tempo un posto sulle varie piattaforme dove parliamo di design a 360 gradi, quindi tecnologia e innovazione. Diciamo che per noi tutto è design, in maniera abbastanza ampia, e lo facciamo cazzeggiando abbastanza, quindi in maniera molto informale. E oggi ti abbiamo trasportato dal bar al ristorante, dal dente. A mio agio, assolutamente. Ti senti un pochettino anche, credo, nel tuo abito. Totale. Noi sappiamo invece che nasce tutto nel 1986, però volevo lasciare una prima parola a te. Un percorso cominciato un sacco di anni fa, Politecnico, e all'epoca erano cinque anni. Un sacco di pezzi di università in giro per il mondo. Una laurea a Barcellona, e poi al Politecnico, e poi salti la barricata e vai di là. E diventi, come dire, un onestissimo lavoratore quotidianamente impegnato a fare delle cose. Alcune volte anche al cazzeggio, perché no? Ecco, quindi ci sono degli evidenti comuni. Politecnico e cazzeggio sono degli evidenti comuni, vero? Da cui partiamo. E quindi questa è la storia. Nell'86, dopo una serie di esperienze in giro, sia per i mondi che per il mondo, decido che è arrivato il momento di provare il richiamo della giungla. E di cosa ti occupavi all'inizio? Noi cominciamo, io e Nicoletta, quando fondiamo lo studio nell'86, cominciamo come un grafico e un architetto. E poteva essere, adesso parlando dei giorni nostri, come può essere adesso, due amici che dicono, cià, si guardano in faccia e dicono, proviamoci. Con una differenza, il Politecnico ha sempre insegnato questa specie di visione a cavallo tra la scienza e l'umanesimo. E quindi abbiamo provato. Confermi. Sono d'accordissimo, è assolutamente vero. Scienza e umanesimo. Molto vero, molto vero. E la bellezza di poter fare l'architetto, il designer, l'architetto disegna dei luoghi, il designer disegna delle cose che mette dentro nei luoghi, il grafico comunica le cose che possono servire ai luoghi e alle cose che finiscono dentro nei luoghi. Sono tre, diciamo, competenze aree che devono, insomma, coesistere. Sì, signore. E i nostri maestri ci hanno insegnato a essere più cose contemporaneamente. Molto umanistico. Com'è nata l'idea, dicevi insieme ai tuoi, credo, amici e soci, di creare Caffè Design, questa, possiamo chiamarla anche community. Sì, sì, possiamo chiamarla in tutti i modi. Che racconta, che buoni propositi ha, cosa fate? Allora, tendenzialmente, dall'altro, nasce proprio a Politecnico, perché tutti e tre ci siamo conosciuti lì, tra l'Atena e la Magistrale, siamo incrociati nelle nostre vie sostanzialmente. E il nostro obiettivo, in realtà, era, cioè, si è manifestato, diciamo, l'intenzione di fare Caffè Design quando, insieme, andavamo, partecipavamo alle, che so, le conferenze di design, ai meet-up con i grandi guru, che poi, appunto, erano relativi al service, al product, a qualsiasi tipo di design, si affrontasse il discorso, e ci accorgevamo che il design veniva trattato in maniera un po' pallosa, cioè, comunicato in maniera un po' triste, se vogliamo, un po' pesante. Esattamente. Il fatto è che noi, parallelamente, avevamo questa chat su Facebook, all'epoca, che in realtà è la stessa chat che abbiamo da sempre, e tuttora esiste, dove ci mandavamo link, ci scambiavano informazioni rispetto alle cose che erano di design, ma ci entusiasmavano un sacco, ci affrontavamo quella cosa con vero entusiasmo. Voi, che eravamo anche giovani, inesperti, quindi c'era solo quello, sostanzialmente, e qui ci siamo detti, ma perché non si può parlare di design in maniera più tranquilla, più rilassata, più informale, più scialla, cazzeggiando, come se fossimo, appunto, al bar? Cioè, veramente, è quello che facevamo alla fine, ci mettevamo lì. Con i contenuti, però, in un linguaggio fresco. Esatto, esatto. Semplicemente cerchiamo di dare o uno spettro di quello che succede, quindi semplicemente di informazione, oppure, poi col tempo, appunto, nel passare del tempo, e l'avvicinarsi anche della nostra vita professionale verso altre cose, cioè, lavorando fisicamente, abbiamo potuto dare anche un punto di vista un po' più oculato sulle cose. Però, sì, diciamo che il punto massimo era quello lì. Ci non apriamo le palle alle conferenze di design, perché, secondo me, è trattato un po' pesante. È vero, Piero, che il mondo del design è sempre stato, ancora oggi, un po' raccontato in maniera un po' pesante? Ti ritrovi in questo concetto? Boh. No, ma oggi siamo qui, siamo qua anche per dibattere. Voglio dire, quando ti racconti, ci sono delle volte che cambi la percezione che tu hai di te stesso, e quindi devi raccontarti in una maniera forse troppo drammatica, forse devi enfatizzare, e poi ammetto che un sacco di miei colleghi, e io mi metto in prima fila, siamo noiosi, quindi vanno presi. Insomma, ti devi prendere per quello che sei. Non racconti, che so, un tour di una rock and roll band. Certo. Racconti te stesso, racconti un mondo che, alcune volte, è noioso. Perché no? È anche molto serio. Perché no? Alcune volte è anche molto scellerato. Perché no? Perché no? Certo. Però ti devi raccontare, vedi, io ho sempre molto timore di quando le cose devono diventare assolutamente alleggerite. Ci può essere molta cultura nella leggerezza, anzi, ci deve essere, e la leggerezza è cultura, ma devi avere uno spessore per poter essere leggero. Certo. È un po' come quando tu parli complessità, semplicità. Il nostro è un mestiere fatto di grandissima complessità. Dopodiché arriva il gesto semplicissimo nel fare una cosa. Ma se non hai dietro di te questa complessità, non vai da nessuna parte. Diventi banale. Quindi, alcune volte mi sono trovato in queste specie di mondi. Ti devo dire che siamo comunque preparati per essere noiosi. ma gli altri mondi che invece ci chiedono di essere allegri. Alcune volte mi chiedo allegro di che? E perché? Ridi. A questa provocazione. La sua razione ha assolutamente senso. Quello che ci siamo posti di fare noi, che si infila in un punto che appunto citava rispetto al fatto che è un lavoro effettivamente complesso, molto spesso è complesso, ma insomma lo dico io insomma con l'esperienza relativamente minuscola, però mi rendo conto che ci sono ovviamente meccanismi complessi. La questione è che secondo me questa complessità molto spesso da parte dei designer anche attuali o contemporanei non per forza di una generazione indietro viene messa davanti quasi per maniera esclusiva rispetto alle persone. Cioè per escludere la gente comune dal far comprendere questa cosa. Quasi come se fosse un'elite se vogliamo. E questa è la percezione che abbiamo avuto noi. Magari ognuno ha la sua, ci mancherebbe altro. E questa esclusione... Sai, sei... Se hai ragione da pallone gonfiato ti do assolutamente ragione. Se hai ragione in termini umani barra professionali barra misurati ti devo dare torto marcio. La percezione comunque deve essere quella la più seria possibile. Noi facciamo un lavoro di grande serietà con un non importa che sia un pezzo unico o un pezzo industriale. Ma ogni volta che tu ti rapporti con quell'oggetto lì c'è dietro una responsabilità spaventosa. Perché devo essere falsamente allegro? Facciamo anche un esempio. Non sono una rock and roll star quindi non devo salire sul parco. Il nostro è un lavoro di allenamento. Tu devi studiare tutti i giorni. Devi leggere ti devi informare devi aggiornare devi lavorare 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 e poi arriva tutto il resto. la fregatura è stata negli ultimi vent'anni che siamo stati spostati sul palco come se fossimo delle rock and roll star e ci siamo dovuti comportare come delle rock and roll star. Qualcuno ci ha creduto qualcuno è rimasto leggermente distante da quel mondo lì. Per colpa di chi? Se posso chiedere secondo te visto che... Ma per colpa di tante cose la comunicazione il fatto che siamo diventati pubblici il fatto che farti vedere in un certo modo non in un altro aiuta comunque a vendere le cose che fai o l'azienda o le aziende questo è esattamente il punto allora mi ha sbloccato un pezzo e poi la comunicazione ha bisogno comunque del personaggio il personaggio può essere più visibile meno visibile più interessante meno interessante meno rock più rock un pochino più pop certo Qual è stata la figura che c'è che ti ha che ti ha fatto innamorare di quello che poi fai e hai fatto? Ma sai è troppo riduttivo Un aneddoto che ti ricordi che è stato saliente per la tua carriera? Adesso arriviamo anche un po' a tutti i progetti Guarda io mi ricordo una cosa meravigliosa io ero studente in facoltà e uno dei miei professori era Achille Castiglioni che secondo un sacco di miei colleghi è stato professore di tutti io ho compagni testimoni e una firma sul libretto quindi sicuramente sono sicuro è lui una mattina dopo lezione che lì le lezioni in Politecnica erano un po' una specie di caccia al tesoro all'epoca uscimmo in in piazza e lui aprì la borsa primavera e prese un elastico giallo giallo e con una forbicina che aveva nella borsa la tagliò a pezzettini piccoli dicendo adesso la buttiamo come se fossero dei piccoli spaghetti e vediamo se i passerotti arrivano e si litigano lo spaghetto tirandolo da una parte all'altra i passerotti erano molto più furbi di noi abbiamo buttato sta roba insomma nessuno c'è cascato però lo spettro creativo di immaginare di tagliare un elastico a pezzetti immaginando che i passeri sarebbero arrivato estremità A estremità B per tirarsi e litigarsi lo spaghetto non lo trovi straordinario creatività creatività lo stato puro e anche uno sguardo da bambino una curiosità che solamente un bambino può avere parlando di creatività che cosa pensi tu invece possa incarnare il concetto di creatività il giorno d'oggi raccontaci quello che vuoi cosa ti viene in mente dico creatività creatività in realtà è un termine che odio la verità perché è gigantesco e alla fine della fiera questa è una domanda che ci si pone spesso tipo il fatto che sia gigantesco perché te lo fa odiare me lo fa odiare perché molto spesso la gente non si ritiene creativa pensa che ci siano i creativi le persone creative che debbano smazzarsi questa cosa perché ce l'hanno dentro quando in realtà molto probabilmente a mio punto di vista la creatività è semplicemente problem solving in qualche modo quindi risolvere un problema nella maniera che più ti viene congeniale e ti viene che poi sia matta o meno che poi sia figa interessante divertente o meno resta comunque creatività un medico è creativo tanto quanto me nell'affrontare un'operazione perché magari se ne esce con una roba un avvocato forse è più creativo di molti designer potenzialmente sotto alcuni punti di vista quindi per me la creatività è semplicemente apertura mentale potrebbe essere affrontare un problema risolverlo nella maniera più figa ma invece voi avete preso spunto da adesso parlando sempre ho fatto la domanda a Piero su una figura che vi ha ispirato qualcosa che è stato elemento scatenante dell'avete preso spunto da qualcuno qualcuno all'estero qualche cofè design ti direi di noi in verità forse forse noi volevamo cioè questo poi l'abbiamo scoperto dopo volevamo fare un sacco radio cioè ci piaceva un sacco l'idea di fare la radio cioè il concetto di parlare ah per quello mi facevi tutte quelle domande eh certo sono serio veramente quindi in realtà è semplicemente quello il fatto quando siamo partiti noi non esisteva neanche cioè il podcasting in sé era una roba in Italia zero completamente possiamo dire di essere i precursori non che me ne avanti non mi interessa però insomma certo quindi c'era qualcosina all'estero però non abbiamo mai pensato di farimento davvero quindi penso che sia stata la radio la voglia di parlare perché non stiamo mai zitti quindi praticamente è quello quello molto semplicemente va bene adesso io parlerei un po' anche insomma dei progetti che insomma sono stati salienti nella tua carriera Piero nel 2015 siete arrivati a New York con la Lissoni Incorporation in realtà siamo arrivati lì nel 2004 2004 nel 2015 gli americani mi danno la patente di architetto americano quindi faccio l'esame ah ok e da quel momentino avanti lo studio diventa americano prima prima era lo studio italiano di oriundi emigranti e se quelle robe lì con la valigia di cartone è stata diciamo è stata entrata nella nella lista degli studi americani sì perché quando tu prendi la licenza a quel punto diventi architetto americano e quanto è diverso rispetto rispetto all'Italia fare l'architetto quel tipo di lavoro per oceano ma non c'è nessuna diversità devi solo adattarti a dei linguaggi in termini legali diversi niente di più niente di meno quindi nella quotidianità nei progetti è tutto uguale tutto uguale tutto uguale devi adattare tecnologie devi adattare tecniche di costruzione dettagli capacità li costruiscono in un modo in Europa costruiamo in un altro modo quindi delle cose devi adattare però la scala progettuale rimane la stessa quindi non avete trovato neanche difficoltà sì abbiamo trovato un sacco di difficoltà perché vogliamo sapere di più c'è una scala tecnologica diversa mettiamola così ad esempio lavorare negli Stati Uniti in tutta quella parte del continente bravissimi a fare high tech ma nel nostro mondo sono il terzo mondo tecnologie antiquate modelli costruttivi alcune volte preistorici qualità molto bassa se non su alcuni progetti dove allora le cose cambiano quindi ti devi adattare e devi portare la tua qualità adattata alle loro capacità quindi quando ti muovi in giro per il mondo di volta in volta tu ti devi adattare senza però snaturarti senza perdere la tua ossatura perché se no e questa cosa siete riusciti a fare questa cosa la devi fare perché se no perdi un elemento fondamentale ma attualmente ancora lavorate in tutto il mondo ci stavi raccontando anche a proposito di caffè il caffè prima di essere qua ai nostri microfoni che avete collaboratori dislocati diciamo in tutto il mondo per seguire e monitorare i cantieri eccetera come funziona quanto è difficile ma guarda è come se tu aprissi e chiudessi delle porte con tutti i sistemi di connessione attuali ma anche prima tu apri una porta e sei in connessione con Pechino richiudi una porta ne apri un'altra e sei in connessione con New York ne riapri un'altra ancora e sei in connessione con Francoforte e via via progetti che durano quanto però? progetti che durano mediamente quando siamo veloci tre anni adesso mi sto immaginando a livello in senso figurato aprire una porta e chiudere una porta però c'è un vissuto in quella porta c'è molto vissuto ma tu immaginati tu costruisci dei gruppi di lavoro che sono milanesi o new yorkesi ok dopodiché prendi un pezzo di quel gruppo di lavoro e lo sposti a Pechino o lo sposti a quindi è un team che si muove in blocco o lo sposti a Buenos Aires e poi lì prendi dei locali li attacchi li appiccichi come il Lego e cominci a lavorare è una macchina che funziona una macchina che funziona molto bene e un team di solito di quante persone? ma dipende dalla dimensione dei cantieri magari un team è fatto da due persone alcune volte è da dieci persone quanto è difficile parlando di trend invece riuscire a comunicarli sempre con un mondo diciamo che è in continua in continuo aggiornamento evoluzione ma boh noi ci siamo creati nel corso di questi 5-6 anni un meccanismo di ricevere input da ogni parte banalmente newsletter siti che seguiamo account altre persone network di gente che ci manda le cose banalmente poi col tempo fortunatamente anche la nostra community è diventata un punto di ti lanciano le cose quindi vedi che è successa questa cosa anche di industria povere condite condivisione pura condivisione pura questo è molto figo perché li sentiamo parte del progetto e quindi a quel punto anche l'input che arrivano da fuori diventano parte della ricerca delle cose però non ti dico che è difficile dire la verità perché perché tutto questo qua è mantenuto dal fatto che noi siamo molto appassionati della materia ci piace molto raccontarla soprattutto ci piace molto sapere le cose ci piace molto applicare quelle cose al nostro lavoro banalmente questo è un vantaggio essere molto informati perché sicuramente hai tanti casi studi da poter nocciolare come diceva prima anche Piero assolutamente studiare lavorare informarsi studiare lavorare informarsi poi hai aggiunto un lavorare 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 a proposito di questo in un'intervista in alcune interviste noi siamo andati a scovare il fatto che hai dichiarato che non sei mai non sei mai stato soddisfatto al 100% dei tuoi lavori assolutamente ti devo dire che per me tutti i lavori che vengono fuori finiti e li vedo li trovo sbagliati tutti come mai questa continua lotta con te stesso sai intanto è quasi un modello di insicurezza devi essere leggermente schizofrenico su questo argomento è un vantaggio però sempre nel tenere una qualità altissima e appare sempre meglio forse può essere stato il segreto sì è un modo per per non fermarti però ti devo dire che onestamente sono lo vedi come un discorso cioè io li vedo e dico beh non è venuto male ma avrei potuto fare molto meglio ci sono dei progetti alcune volte che credimi me ne rendo conto che avrebbero potuto diventare ancora diversi non necessariamente migliori ma diversi quindi io li vedo finiti e penso accidenti se avessi avuto più tempo sarebbero diventati ancora migliori però mi butto nel progetto nuovo e penso tra me e me stavolta però non mi fregano e poi tutte le volte arrivi lì sai quando fai design ad esempio è un meccanismo talmente complesso ci sono industrializzazioni ci sono stampi ci sono tecnologie ci sono robot che si muovono ci sono numeri ci sono cose che vengono costruite per andare da un'altra parte quando le vedi finite devi immaginarti tutto del processo che ti ho raccontato prima ma la mancanza di tempo è un è una costante nelle tue tra virgolette giustificazioni no no la mancanza di tempo semplicemente è un è una specie di variabile che tu metti dentro nell'alchimia di un progetto alcune volte ce l'hai alcune volte fai finta di non averla io che poi sono nato insomma per me la stringa temporale è un ossimo il tempo è una roba elasticissima e quindi non sono mai stati in orario in vita mia oggi sono arrivato oggi si in anticipo ti devo dire sono arrivato in anticipo perché la mia segretaria mi ha fregato temendo che io arrivasse in ritardo ha messo il mio appuntamento un'ora prima pensando che il podcast magari fosse in diretta e lei si cura al 100% podcast in diretta quello lì arriva un'ora dopo succede un casino quindi cosa faccio le metto un'ora prima e io misteriosamente sono arrivato preciso però ti faccio un esempio quindi comunque ha fatto bene il suo lavoro ha fatto magnificamente bene il suo lavoro io alcune volte arrivo dei miei clienti in orario e non ci sono perché sono talmente riconosciuto mondialmente per i miei ritardi che mi danno un appuntamento alle 10 io arrivo alcune volte preciso alcune volte molto poco e non ci sono arrivi lì però ormai lei lo sai tutti lo sanno quindi anche la scala del progetto il tempo intanto il tempo è il vero elemento e l'altro elemento sono i limiti le limitazioni tutta la parte che ti mette dentro in una specie di confine quella parte lì è la parte più bella per fare i progetti i limiti tecnologici economici di numeri la creatività è una bestia che va tenuta sotto controllo non è semplicemente fai una roba creativa e vai col mambo non è mica quella roba lì anzi si allena meglio quando ci sono appunto delle restrizioni dei limiti come stavi dicendo limiti volevi aggiungere qualcosa sono d'accordo con questo concetto qui dei paletti dei limiti che di fatto sono stimolica è un esercizio come a scuola che ci dicevano devi fare in tot righe questa consegna qua su questo tema è la di ingegni volevo dirvi come a scuola non so voi ma io da studente ero una bestia bestia però attenzione perché il linguaggio d'oggi è una bestia può essere anche fortissimo no una bestia intesa come sai quelli orecchie lunghe dietro la lavagna allora anch'io ero un po' una bestia quel modello lì però ad esempio io ho imparato da ragazzino quando vado sotto pressione che devo consegnare i compiti in classe e prepararmi per le interrogazioni testeminate quando tiravo all'ultimo in quel momento diventavo efficientissimo è un discorso che vale per tanti secondo me sulla scuola poi sul lavoro ma anche sul lavoro io faccio la stessa cosa ci può essere sicuramente una connessione magari che sai che devi portarla a casa e a quel punto sì io sono d'accordo ma questa è la cosa che succede anche a me però ad esempio nella gestione di un progetto e noi facciamo progetti molto complicati con gente con team con persone ingegneri insomma c'è tutto un mondo che si muove quando non sono sicurissimo di quello che sto facendo tiro i tempi volutamente quindi metto sotto stress tutti quanti per vedere fino ad arrivare all'ultimissimo momento in quel punto lì quasi vado oltre al punto di non ritorno a quel punto diventa tutto chiarissimo se lo faccio se lo faccio cosa devo cambiare se non ho voglia di cambiare perché lo devo fare cosa hai pensato che sono dipendenti di questa cosa secondo lei non ci sono dipendenti no dico i collaboratori sono tutti quanti gente che lavora assieme il fatto che li metta sotto stress che su alcune cose è ragionevole che li metta sotto stress su altre cose sono più bravi di me quindi portano avanti i progetti in maniera migliore e più ingentilita però quando arrivano già a quel punto vuol dire che comunque sono anch'io d'accordo su quello che stiamo facendo se no stress stress posso fare un'altra domanda c'è un iter preciso che seguite per scegliere i collaboratori cioè rigorosissimamente sì legato più al quanto di umano viene considerato oltre alla spesa professionale mettiamola così su tutte le parti di tecniche lo studio prepara le persone dall'università quando arrivano che mi dicono che hanno fatto Revit a me viene da ridere quindi prepariamo ma se ti parlo e non sai chi è Ulisse o non hai un'idea esattamente che cosa è successo tra Andrea Palladio e Schinkel stiamo parlando di due mondi che non non posso aprire un dialogo certo se non conosci Paperinik o almeno Topolino c'è qualcosa che non torna chiarissimo ci sta volevo sapere questa cosa perché ha senso è una cosa che sento dire anche da tantissimi altri designer navigati c'è gente che lavora che ha avuto la possibilità di lavorare con team anche grandi con altra gente in maniera più sicuramente più esperta di me su questo ma lo noto anch'io io ho un collaboratore solo con noi che abbiamo un ragazzo soltanto ci abbiamo messo del tempo perché giustamente la parte tecnica si può affinare la puoi imparare in studio la puoi imparare col tempo sotto pressione sicuramente poi ti ingegni a risolvere però la parte umana che banalmente può essere solo il fatto che sia una persona piacevole con cui si può scherzare quella non è detto che ci sia necessariamente è una cosa che non puoi neanche imparare eh no esatto esatto è quella però influenza il fatto che noi dobbiamo stare nello stesso posto per diverse ore cioè se sei se sei una palla sei una palla e magari lavori anche da Dio però magari poi non ci si trova proprio a livello umano e forse secondo me è un livello superiore cioè forse la prima cosa da scegliere la criticità che vedi nel nel mondo del design o di chi si approccia al lavoro al giorno d'oggi qual è? la criticità allora se c'è sì adesso parlando di colloqui risorse umane eccetera allora io ho sempre voluto cioè mi piace approcciare la cosa mi piace vedere anche gli altri ragazzi questo ragazzo che lavora con noi adesso l'entusiasmo cioè l'entusiasmo è la passione è la voglia di affrontare le robe che può essere il progetto può essere appunto noi facciamo diversissime cose abbastanza diverse quindi anche il volersi cimentare in cose che non si è mai fatto questa è una roba che secondo me è rara purtroppo è verità nonostante cioè potrebbe sembrare il contrario è rara è rara ritrovo a trovare gente che anche è motivato è automotivato è molto appassionato della cosa quindi si si butta con grande grinta sulle robe quindi trovare è sempre la parte divertente del lavoro secondo me noi facciamo un lavoro super divertente nonostante comunque sia serio si porta a casa della roba seria effettivamente reale però è un lavoro che ti consente di divertirti moltissimo per come la vedo io se non ti diverti a fare questo lavoro non so non puoi farlo non puoi farlo confermi Piero è un è un concetto che condividi il discorso dell'entusiasmo il fatto che devi divertirti senza ribadire il fatto che abbiamo detto in apertura della responsabilità questo è un mestiere che chiede un grandissimo sforzo di passione quindi hai proprio bisogno di trovarti persone che comunque siano appassionate io credo che la il vero trampolino sia questo salto di passione e poi tutto il resto viene da sé come hai visto cambiare il mondo del design in questi anni lo chiedo a te Piero guarda è cambiato è cambiato tantissimo in virtù del fatto che sono entrati sul palcoscenico tantissimi nuovi interpreti ti devo dire che non giudico in maniera né positiva né negativa dico semplicemente che tantissimi interpreti sono saliti in virtù del fatto di una specie di appiattimento e di una richiesta meno strutturale per lavorare nel mondo del design più interessante fare un po' il pezzo fenomenale io sento alcune interviste girando in questi mondi e ti parlano di come se fossero dei maestri tutti tutti stabiliti e ti parlano di creazione io non sono come dire tecnicamente allineato con la religione l'unico penso che possa creare Dio se ne esiste uno tutti gli altri fanno delle cose quindi parlami di faccio delle cose costruisco ma la creazione lasciamo alla parte due parlano di schemi o di cose iconografiche ma l'iconografia la scopriva fra cent'anni e a Dio piacendo dovremmo essere tutti quanti dall'altra parte c'è una specie di scarsissimo controllo dell'ego e l'ho visto generalizzato purtroppo può essere una cosa dicevo io credo che siano le scuole che è a livello globale cioè non nel mondo del design sono le scuole la stampa questa facilità di comunicazione cioè adesso fai una robina la comunichi peraltro molto bene e automaticamente sei la nuova stella del design non è così poi la nuova stella del design dopo un salone del mobile o dopo un ICFF o dopo 100% design finita la settimana è già sparita questo elevare il discorso è quello che mi riferivo prima quindi il motivo per cui ci siamo messi in una conversazione come caffè design comunque però non è anche vero il fatto che al di là dell'egocentrismo o meno sia più cioè il design oggi sia un po' più democratico nel senso che accoglie più punti di vista di prima e li accoglie nel senso che puoi essere rilevante in qualche modo non dico con più facilità però hai possibilità di parlare più facilmente sì c'è più facilità ma non necessariamente vuol dire che stiamo parlando è un problema questo sì sì faccio un esempio sì 4-5 anni fa è cominciata a uscire questa divertente idea dell'autoproduzione sì mi ricordo ma nel momento in cui fai l'autoproduzione spacchi un un anello di una catena delicatissima non c'è più dialogo il giudice l'assassino e l'avvocato sono la stessa persona con metal la nefandezza di disegnare una sedia la costruisco in termini formali e poi tecnici e mi dico anche e la giudico perché sono l'imprenditore sono un figo pazzesco però è un mercato che comanda poi a quel punto comunque o come viene recepito poi al di là delle vendite ecco diciamo come viene poi viene sempre dimenticato che c'è una catena e quando parlo con i miei colleghi più giovani pensano che sia sufficiente fare una cosa e automaticamente entreranno nell'olimpo del design se non la distribuisci se non controlli la qualità se non controlli la sua vita dopo se non sai che cosa stai facendo se non la comunichi e non basta facebook e non basta instagram non basta pinterest non basta youtube su via verissimo però per esempio il making cioè l'autoproduzione questa roba qua ha aperto anche giusto perché ne ha parlato la possibilità di esprimersi anche a persone che magari hanno più difficoltà cioè o meglio banalmente non dovevano esprimersi giovani tipo no perché sei sicuro di andare avanti no 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 ok non so non capisco perché non è non è interessante il fatto che ci sia quante più possibilità ci possono essere tanto meglio è perché comunque il discorso ecco chiamiamolo così il discorso in realtà ha più voci e quindi uno si mette anche in discussione magari non lo metto in dubbio da un punto di vista intellettuale poi se no facciano schifo le cose non discuto sulla bellezza o sulla bruttezza dico semplicemente che da un punto di vista intellettuale è interessante ma manca un elemento fondamentale il dibattito la critica i paletti dove sono ah certo ok però avvocato assassino giudice no 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 ma infatti per me mi piace ecco sono d'accordo il fatto è che la possibilità di esprimersi però comunque che poi non sbaglio che abbia non abbia modo di misurare quello che sta facendo perché è tutto concentrato verso un'unica entità azienda o persona che sia produzione distribuzione giudizio eccetera poi alla fine se è una cosa non funziona è sempre guardi la interrompo non mi perdono domanda offerta legge esatto precisissime precisissime chiaro se c'è un'offerta eccessiva di designer e non c'è una domanda all'altezza un motivo ci sarà non posso bypassarlo pensando di andare oltre può succedere in termini numerici su centomila designer che autoproducono forse se ne salva uno alla fine lo sforzo è stato talmente eccessivo per tentare di entrare in un mondo che forse non ne aveva bisogno questo discorso si può fare su tantissime altre industrie probabilmente però secondo me non vedo perché uno debba limitarsi allora che fai non fai niente no fai altre cose vabbè però uno che magari ha un sogno ha un ambizione poi magari fallisce la prima fallisce la seconda fallisce la terza però la quarta magari ti va bene e tu non ti ti sa da neanche una possibilità no io sto parlando di non scorciatoie i sogni vanno vissuti per quelli che sono come tutti quanti noi abbiamo avuto dei sogni qualcuno li ha realizzati e qualcuno no io volevo vincere le olimpiadi di discesa libera non ce l'ho fatta un sogno meraviglioso però non ce l'ho fatta c'era gente che era molto la chiudo in una parola molto più brava consapevolezza sì senso della misura sì sicuramente questa è una buona chiusa e dimmi grazie grazie mille parlando allora di domanda e offerta Piero se vuoi darci non so una panoramica delle università e di quante ne sforano in tutta Italia di talenti magari non solo talenti ma di laureati in architettura design era questo argomento o se preferisci è l'argomento che molto spesso viene dibattuto la possibilità in virtù dell'elettronica in virtù dell'autoproduzione in virtù del e-commerce di andare in altri mondi e tecnicamente di generare cose di generare fatturati di generare sopravvivenza alla fine perché no pensa solamente una città come Milano Politecnico sforna un numero impressionante in diverse sezioni di designer scuola Politecnica di design idem x numero di ogni anno di sezioni di design Marangoni XID più altre scuole che in questo momento mi sfuggono ed è solo Milano e tutti quando escono hanno l'idea che comunque in qualche maniera si dovranno esprimere come in teoria è giusto sì bene la domanda è che va messa sul piatto della bilancia ci sono tantissime possibilità su livelli differenti non necessariamente tutti quanti diventeranno designer questa è una cosa da mettere in conto la mia contestazione sull'autoproduzione o sull'idea giudice assassino e avvocato è che tu salti una serie di passaggi pensando di arrivare oltre tutti i numeri sull'e-commerce ad esempio sull'autoproduzione che in qualche maniera anche noi controlliamo perché non siamo proprio fuori dal mondo sono numeri tecnicamente ci raccontano che sono in grande crescita ma orizzontalmente sono numeri risibili certo e dimentica nel percorso c'è una credibilità della storia lavorare per un'azienda di design o lavorare per un'azienda che fa telefoni di un certo tipo è una parte della storia se non sei lì ad esempio lei sa chi ha disegnato l'oppo? no ecco però lei sa chi ha disegnato questo non è una questione di racconto no 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 in questo momento Oppo in termini numerici uno fa 14 milioni di telefoni e quell'altro ne fa 12 ok ma perché esista uno deve esistere anche l'altro intendo così come i maker così come tutte le altre industrie cioè non esiste il player grosso senza il player picco altrimenti non c'è metodo di misurazione in questo caso i due player sono simili 14 milioni un telefono 12 milioni quell'altro tanto meglio però magari io non conosco personalmente io non conosco quello di Oppo forse so di conoscerlo non lo so mi sembra che comunque Carl Pecci uscirai con tanti dubbi dopo questa puntata di Alden no certo dai no no non lo so allora facciamo così chiediamo questo discorso io capisco quello che dice signor Lissoni ci mancherebbe a me piace il fatto a me personalmente come designer come persona mi piace il fatto che ci si possa confrontare con tante con tanti poi il fatto che esistono penso che in tutte le professioni abbia questo problema mia mamma diceva quanti avvocati ci sono perché devi fare l'avvocato la chiudo ancora vi vengo ancora in soccorso scidimi non tutti riescono a vincere un compasso d'oro ma infatti ma non è quello no perché volevo parlare no no non ce l'hai fatto non ce l'hai fatto sai che fregatura che è un compasso d'oro cioè una fregatura un oggetto meraviglioso 2014 hai vinto questo premio è una fregatura perché è una fregatura cioè anche lì quando ti è stato assegnato hai detto no non sono convinto ma no ma perché lei crede nei premi di design perché non credo nei premi perché non non credo nei premi nello stesso tempo ti fanno un gran piacere cioè sarei un bugiardo matricolato e nei vinti diversi per l'amor di dio guarda che schifezza no però è un po' una fregatura perché poi pensi accidenti però esistono in quasi tutte le categorie di lavoro che siano premi pubblici o che siano premi guarda il il premio più bello è sempre quello che i miei clienti mi fanno chiedendomi prodotti nuovi o un edificio nuovo o un progetto nuovo la domanda il premio vero il premio vero è quello lì poi mi premiano alcune volte perché ho fatto dei progetti che sono piaciuti a qualcuno in termini critici ma è un'altra storia grande umiltà no comunque nelle tue parole questo è sicuramente anche un altro tema parlando magari dei giovani d'oggi del fatto che prima dicevamo fai una cosa e la vendi come una creazione salire sempre l'umiltà è forse una cosa che si impara sicuramente una cosa che si impara col tempo non so mi sento di specialmente nel nostro lavoro dove almeno ripeto secondo la mia visione io quando ero ragazzo all'università ho finito l'università ho detto spacco tutto sono il più forte di tutti ok poi ovviamente ti misuri con la vita vera prendi un po' di porta in faccia non è vero e capisci che non è così però ripeto a me piace il fatto che uno parta così a palla si è mega ambizioso e poi si prende un po' di pugni e si mette a posto vi faccio dibattere ancora dai qual è il brand più innovativo a livello di design il brand italiano che siamo al dente podcast di eccellenza italiana un brand italiano più innovativo dipende qual è la scala scala tecnologica scala estetica e vabbè facciamo un mix allora ti metto più paletti come dicevi tu più limiti ma guarda che sono tutti quanti spaventosamente creativi parlando di ultimi trend per aiutare te sai che in studio da me trend costa 5000 euro c'è un casellario delle parole che non devono essere pronunciate trend e quindi quelli che lavorano da te non guardano ti faccio l'elenco condividere costa 500 euro questo è il tarifario è il tarifario oramai tutto quanto è è in condivisione ti costa un bel 500 un trend ti costa un bel 2000 è già cambiata la sì sono sceso perché ce ne sono altri due che invece sono saliti di livello questi sono i termini da non pronunciare mai in una riunione in una riunione dove sei presente che sei in italiano che sei in inglese se salta fuori una roba del genere molta paghi brand ti costa quasi un 5000 se invece vai oltre e fai questa specie di acronimo una specie di spanglish quindi italiano inglese modificato che è brandizzare ti costa un decca secco se scontisci una botella di caffè costerebbe un milione di euro capisci che capisci che tutti questi di multe ad esempio il linguaggio è una roba importante vai 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 raccontaci di più il linguaggio è una cosa fondamentale quando tu sei all'interno di questi mondi il linguaggio è il tuo modo per raccontare delle storie puoi essere Italo Calvino puoi essere per avere anche una credibilità all'interno di questo mondo puoi essere Dante o semplicemente puoi essere Zero Calcare pur qua allora aziende che ti danno tecnologia limiti non so io lavoro tanto e da tanti anni per cartel e credimi da un punto di vista generale il modello creativo dell'azienda è potentissimo però lavori con dei livelli tecnologici e dei limiti spaventosi boffi è spaventosamente tecnologica incredibilmente creativa da un punto di vista produttivo e anche lì limiti a go go b e b quando disegni un divano uno pensa vabbè un cuscini ah lì cuscini e qual è la adesso visto che l'hai citato non so l'oggetto la l'area lo spazio più difficile da disegnare e progettare ti devo dire che tecnicamente sono tutti difficilissimi disegnare quello dove serve più esperienza disegnare ma sai l'esperienza alla fine te la fai la cosa più bella di tutti però a qualche domanda rispondi scherzo no ti rispondo ti rispondo sai io ho dei clienti che sono permalosissimi cioè ogni volta che mi espongo poi questi mi ascoltano tranquilli con noi vai tranquilli questi mi ascoltano e poi mi dicono oh ma quella volta lì com'è che di me non hai parlato chiudo la parentesi sempre simpaticamente certo noi non abbiamo ancora non abbiamo tariffari in questa prima stagione non li abbiamo messi io invece sì sono costosissimo per esempio Carter quando fa una sedia tu lavori con la materia lavori con con le molecole lavori con stampi che costano un milione di euro ricerca ingegneri quindi la cosa fondamentale è torno indietro di un passo e tu mi hai interrotto e questa me la paghi va bene è l'errore l'esperienza te la fai e quotidianamente sbagli la bellezza è inventarti degli errori nuovi tu risolvi un errore ma sei così creativo che te ne inventi un secondo nuovo e ogni giorno uno nuovo e ogni giorno una soluzione quando stampi una sedia e la tiri a centomila pezzi l'anno devi fare in modo devi essere un ingegnere un chimico un architetto ma la cosa più bella nella mia esperienza da architetto è quando ho disegnato una caffettiera per Alessi il primo prototipo che era esattamente come l'avevo disegnato molto bella credetemi bellissima soddisfatta al cento per cento no il prototipo era bellissimo Alberto Alessi mi chiama in fabbrica e mi fa parlare con questo signore di ottante passani che era chiamato il caffettologo lui aveva disegnato quando ero un ragazzo giovanissimo era nel team che aveva disegnato la Bialetti l'avete presente? sì sì chiaro credo che la conoscano tutti quindi questo signore aveva un sacco di anni mi guarda con un sorriso lupigno prende la mia caffettiera ed era un prototipo la tocca come se fosse sporca la gira e con un sorriso sempre più da lupo mi dice architetto con questa cosa faremo un vero caffè di merda sbattuto in faccia così e poi mi guarda e mi fa per fortuna che lei è laureato lei sa quantità di acqua pressione vapore filtro è capace di calcolare i centimetri cubi che ci vogliono che ci vogliono per fare determinate cose questa roba non funzionerà mai e qual era l'inghippo? che avevo sbagliato avevo fatto delle proporzioni che erano rigorosamente estetiche ma non avevo tenuto conto di alcuni elementi dei piccolissimi dettagli di chimica la cosiddetta fattibilità semplicissima semplicissima geometria e alla fine l'abbiamo fatta cambiata le proporzioni diventata più brutta il caffè lo fa io avrei rinunciato ad avere un buon caffè per l'oggetto secondo me prima era fichissima usando quella delle capsule bellissima 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 qual è il posizionamento secondo voi lo chiedo entrambi dell'Italia nel mondo per quel che riguarda l'architettura design grafica questo settore di cui stiamo parlando oggi come siamo posizionati e come siamo visti ma io secondo me si fa fatica adesso a definire il design italiano cioè se prima era più circoscritto poi magari perché stiamo vivendo tempi contemporanei io faccio fatica a capire cioè non non saprei più che significa design italiano a mio parere ma secondo me non c'è il il meccanismo è diverso c'è l'industria italiana che fa design ed è potentissima il design italiano è l'industria l'artigiano la piccola azienda il movimento generale che fa quella roba lì poi ci sono alcuni design di italiani ma non necessariamente quindi il design italiano è tenuto in piedi da loro non da noi noi siamo una causa effetto ma quelli veri sono loro finché ci sanno le industrie gli artigiani i prototipisti i ricercatori le fabbriche i piccoli costruttori allora continuerà a esistere così potente il design italiano però è un po' circoscritta questa cosa secondo lei o secondo me sì oltre all'interior design chi è rilevante nel design nel senso più ampio in Italia ma se lei pensa che nessuno di noi prende in considerazione alcuni mondi che so Brembo credo che siano i più grossi fornitori di freni ad alta capacità del mondo dalle Formula 1 fino alle macchine o alle motociclette pensate che livello di design c'è dentro sicuramente è quella roba lì il design non è mica una sede della cartel è anche la sede della cartel tecnologicamente non so io capisco quello che c'è il suo discorso ed è in dubbio che questo penso per grandi numeri che l'Italia abbia un suo posto alla tavola però ne faccio un tema di di presenza al pubblico ma è un problema di comunicazione non mi interessa non mi interessa cioè se penso ai treni che costruisce la Itaki tra Grosseito Siena e Lucca quello è design se penso alla Ducati quella roba lì è design stiamo citando tante aziende non brand io mi riferivo più che altro a un approccio perché se la domanda è che cos'è il design italiano è la risposta aziende che fanno soldi ok cioè va bene si sta non so nessuno nessuno di noi fa beneficenza lei no 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 questo è giustissimo ci mancherebbe altro anzi ben venga meno male quello anzi è importantissimo solo che mi mi divolgevo all'approccio al progetto cioè io avevo interpretato così la domanda e poi ci mancherebbe quello sbagliato io scusa allora forse ho sbagliato io no no c'è grande umiltà in questo tema diciamo parlando invece di Milano l'abbiamo citata prima come università politecnico parlando di formazione può essere definita vediamo se qui possiamo essere tutti d'accordo ancora la la capitale il punto di riferimento per quel che riguarda il design sì finché ci saranno gli i mondi produttivi sì sono d'accordo c'è una bella scena a Torino anche ma principalmente per le arti visive secondo me però Milano insomma si è autoeffigiata questa cosa e ci sta di brutto nel corso degli ultimi anni no bene tutto la vita dal 1500 costruiamo queste cose no no dico confermiamo questa teoria anche anche pensando agli ultimi anni ah sì sì insomma sì va bene volete farvi una domanda reciproca cioè dopo questa chiacchierata avete voglia di farvi un'ultima domanda un'ultima provocazione no io ho una curiosità entrambi vai una curiosità che volevo chiedere la metodologia lì ha lavorato nel design in tantissimi anni no sempre aver cambiato metodologia di approccio al progetto nel corso degli anni magari nella transizione banalmente dall'analogico al digitale o dal digitale all'AI questo processo qui a livello metodologico è cambiato il suo modo di fare progetto nel tempo o no no l'ho solo evoluto migliorato qualche volta reso più efficiente non necessariamente ma la scala ideologica intesa come musicalità del come si approccia e si disegna una cosa rimane la stessa perfetto uguale uguale bellissimo tu piero vuoi dire un'ultima cosa a giuliano o a caffè design sì qual è la scala del progetto di quello stiamo parlando di che progetto del suo progetto di caffè design qual è la scala di caffè design la scala del mio progetto o se vuole dove a terra potrei ci sono diverse versioni di questa di questa risposta potenzialmente però di sicuro siamo siamo abbastanza allineati sul fatto di voler essere un punto di riferimento per la community dei designer quindi questo può manifestarsi in tutti i modi noi abbiamo il sogno di aprire un bar un giorno cioè di aprire il caffè design un posto dove la gente viene si incontra fa design si conosce studia facciamo podcast facciamo cose dove si parla di design dove c'è interesse a dialogare in qualsiasi modo espressivo sul design quindi la nostra ambizione è semplicemente quella di soprattutto poi macro divulgare il design come una cosa figa anche a chi non capisce niente di design mio padre adesso sa più di design sa più del mio lavoro è il che mi soddisfa particolarmente per me se una persona non ha studiato design può tranquillamente fare il design e questo è quello è una delle cose che secondo me è figo e da notare ti ha detto dialogare e non condividere e quindi non prendere molto grazie davvero a Piero Lissoni per aver portato tutta la tua esperienza tutta la tua storia tutto il tuo sapere sul mondo del design dell'architettura e tutto quello che ci hai raccontato davvero grazie per essere stati ai nostri microfoni grazie mille Piero grazie a Giuliano Guarini di Caffè Design seguite la pagina Caffè Design ovunque esatto tutti dai Instagram, YouTube allora su YouTube abbiamo un episodio la settimana tutto il lunedì su Instagram siamo praticamente sempre davanti alle valle perfetto ne approfitto per ringraziare tutti gli ospiti che sono passati in questa prima stagione di Aldente grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito e supportato e ci vediamo presto nella stagione 2 di Aldente grazie a tutti ciao ciao